Mi puoi calmare! Mi prego, mi prego! Mi prego, eh? Ma che diavolo? Vida, per favore, no, 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 va tutto bene! Caroline, mi dispiace, ma non posso più tollerarlo. Noxie, puoi prenderti cura di Caroline? Virgile e io dobbiamo discutere di una cosuccia. Dunque, Virgile, deduco che ti piace picchiare le donne. Alcune donne hanno bisogno di essere picchiate. Allora, viceversa, anche alcuni uomini devono essere picchiati. Ah! Ah!